Sanità, lettera a Occhiuto. Mio padre è morto per malasanità. Dolore non fermerà a nostra battaglia di giustizia. In una lettera aperta, indirizzata al presidente Occhiuto, il figlio di un paziente vibonese deceduto nei giorni scorsi affronta la tragica vicenda che ha interessato la sua famiglia. La tragedia della sanità in Calabria, scrive, continua ad essere un'oscura e incivile pagina della storia della nostra regione. Al pari delle altre regioni d'Italia, il diritto ad essere curati dovrebbe essere garantito. Purtroppo tutto ciò a Vibo Valencia non è scontato. Ci troviamo di fronte ad una realtà in cui la vita umana sembra essere spesso ignorata. È un sistema marcio, corrotto dall'indifferenza, dall'inerzia e dal malaffare, dove il valore di una vita umana viene spesso sacrificato sull'altare della negligenza, del menofreghismo e della completa sciatteria sanitaria. Sì, proprio così, sciatteria sanitaria, perché ogni qualvolta si ha bisogno di curarsi, si ha l'impressione di percepire un mix di adrenalina e ansia, al pari di una puntata alla roulette russa. In Calabria la morte sembra essere diventata una statistica, un numero tra i tanti. Le persone soffrono e muoiono senza ricevere le cure di cui hanno bisogno, mentre chi dovrebbe proteggerle e curarle sembra voltare lo sguardo altrove. Il dolore delle famiglie costretto a vedere i propri cari andarsene prematuramente è amplificato dall'impotenza di fronte a un sistema che non funziona, un sistema a punto marcio da dentro. Quello del familiare che chiede giustizia per Giuliano è un appello alla coscienza di tutti noi, ma soprattutto alla vostra, che siete i nostri rappresentanti, affinché si metta fine a questa indifferenza verso la sofferenza umana. Oggi a morire inerme per mano di un'equip di lestofanti e negli genti è stato il mio caro papà, ma le prometto che non ci arrenderemo di fronte a niente e nessuno, pur di arrivare a far chiarezza sulle responsabilità di ognuno. Ogni vita conta e nessuno dovrebbe morire come se niente fosse a causa di mercenari sanitari perché i medici, quelli animati da vocazione alla missione, sono ben altro.